Siamo lo zio anche questa notte in Torino e più precisamente al Miami a Torino in compagnia della stupenda Sofia Cucci Ciao zio buonasera buonasera a tutti scusate per la mia voce ma sono molto malata siamo tutti malati però è colpa del tempo sei stupenda lo stesso malata o non malata eh? Grazie grazie Siamo al Miami il salotto buono della Torino che conta dove gli ospiti VIP sono di casa benvenuta Sofia Cucci Grazie ben trovati anche a voi noi ci siamo già rivisti altre volte insieme al proprietario Sergio io sono onorata di essere qui sempre ogni volta ormai sono di casa devo prendere solo la residenza perciò io vi invito a vedere il Miami che è molto bello è bello e si viene accolti come in casa puoi trovare la pizza, puoi bere ci sono delle fantastiche ragazze e mi è scappato abbiamo mangiato la pizza stiamo due e due così allora grazie Miami grazie amici di FanTV e noi andiamo avanti perché questo è solo l'inizio di questa magica notte un bacio a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.